ciao amici c'è un cibo comunissimo nelle case degli italiani che protegge il colon e la flora batterica sapete qual è è la salsa di pomodoro davvero si è dimostrato se siete curiosi di sapere perché mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video tra l'altro la salsa di pomodoro protegge anche la prostata ne ho parlato in questo video vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere ma torniamo all'intestino è ancora una volta il licopene l'arma segreta del pomodoro lo ha scoperto uno studio dell'università politecnica de valencia pubblicato sul journal of functional foods lo studio si è concentrato su quei cibi chiamati alimenti funzionali e che roba è sono i cibi buoni che fanno bene oltre a nutrire i cibi funzionali migliorano le funzioni dell'organismo e aumentano i propri benefici con la cottura nel caso del pomodoro il licopene antiossidante sostiene la flora batterica intestinale in particolare il ceppo lactobacillus reuteri tra i più importanti mentre i cibi sbagliati riducono l'efficacia la proliferazione di questo batterio buono la salsa di pomodoro ne stimola la crescita e la funzione digestiva e il pomodoro crudo non è uguale no è un caso diverso secondo lo studio la cottura del pomodoro rafforza il licopene che diventa più resistente alla digestione così arriva fino all'intestino dove svolge la sua azione prebiotica cioè di cibo che rafforza la flora intestinale grazie all'effetto probiotico come un integratore come sempre il mio consiglio di fare le cose in casa o almeno comprare passata bio e non sughi pronti che sono pieni di additivi chimici nocivi il licopene si trova in grande concentrazione nella buccia quindi se fate la salsa in casa cuocete anche la buccia e poi spremetela bene per conoscere i benefici di tanti altri cibi basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao